Pronti a realizzare tutte le opere idriche dai nuovi impianti di depurazione alle centraline di sollevamento alle reti fognarie. Ma ci scontriamo con le lungaggine della pubblica amministrazione. Così i vertici di Girgenti Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, replicano ai sindaci e anche ai tantissimi cittadini che ritengono il gestore privato responsabile dell'attuale situazione. Abbiamo la volontà di realizzare i progetti, ma siamo costretti a fare i conti con le lungaggini del sistema burocratico della pubblica amministrazione, precisano ancora. Ad esempio citano il caso dei lavori da realizzare a San Leone, una centralina di sollevamento al posto del depuratore del villaggio Peruzzo e una rete fognaria che ha esposto i reflui al depuratore di Sant'Anna, annullando i pennelli a mare. Il tutto è in attesa che si costruisca il depuratore al villaggio Mosè. Attorno al progetto, un iter burocratico che si annuncia lungo e tortuoso, che prevede l'avvio il 4 settembre prossimo con la riunione per l'approvazione tecnica del progetto. Una volta approvato sarà trasmesso al Consiglio Comunale, il quale a sua volta ne approverà le opere e disporrà il vingolo preordinato all'esproprio. Successivamente il progetto sarà trasmesso alla Regione per l'emissione del relativo decreto di finanziamento. A questo punto la palla ritorna a Girgenti Acque, che potrà dare via ai lavori. Iter è iniziato a febbraio dopo la firma dell'accordo di programma quadro Stato-Regione e dopo che il sindaco di Agrigento ha finalmente deciso cosa fare dell'impianto di depurazione del villaggio Peruzzo. Noi, prosegue Girgenti Acque, siamo pronti a iniziare i lavori, ma dobbiamo rispettare i tempi dell'amministrazione pubblica. E di questo, come ovvio, il sindaco Zambuto ne è perfettamente consapevole, anche se talvolta le sue affermazioni ci lasciano all'ibiti. E pronta arriva la replica del primo cittadino di Agrigento, Marco Zambuto. Quando Girgenti Acque ha firmato la convenzione, il contratto con il quale si è assunto all'onere di gestire le reti di acqua e di fogna di tutto l'ambito, si è assunta quest'onere allo Stato nel quale si trovavano tutte le strutture. E quindi si è assunto all'onere di garantire la manutenzione e di fare gli investimenti. Perché dovete sapere, una quota della tariffa che pagano i cittadini è destinata agli investimenti. Vorrei sapere questa quota, se è stata accantonata o meno da Girgenti Acque per fare gli investimenti, che investimenti hanno fatto e comunque non può essere un alibi quello di aspettare e nel frattempo che si aspettano le procedure, tutta la vicenda sulla manutenzione viene lasciata perire così come abbiamo visto anche in queste ultime settimane. La vicenda è chiara, spaccata, continuo ancora a vedere un ato che mi sembra molto sonnolente rispetto a una situazione che invece mi pare sia estremamente chiara. Noi stiamo andando avanti sulla procedura di rescissione e di risoluzione del rapporto. Ripeto, ritengo che il lato idrico dovrebbe essere più solerte nel prendere atto di una vicenda che è chiarissima e che non può e che non ha alcun alibi e soprattutto alcuna giustificazione.